Questo credo che sia un servizio che ci darà delle soddisfazioni perché avendo la possibilità di noleggiare come avviene in tante altre città europee un monopattino o una bicicletta elettrica senza avere rastrelliere e quindi avere dei luoghi in cui poter lasciare la bicicletta aiuterà tantissimo a lasciare l'auto e ad utilizzare il mezzo elettrico per muoversi in centro storico anziché con l'auto utilizzando appunto mezzi elettrici. Quindi siamo convinti della scelta fatta e devo dire brava Adriana Fantini, l'assessore che si sta occupando di tutto questo. Vorremmo riuscire ad andare in consiglio comunale entro la fine dell'estate con il tema di piazza Cittadella. È chiaro che il tema dei parcheggi non è un tema che si risolve facilmente o in poco tempo ma allo studio ci sono svariate aree non dimentichiamoci ad esempio l'ex Acna che però ha dei tempi per essere realizzata. Però è tutto nella giusta direzione.